Un dramma senza fine vissuto da due amatissimi naufraghi, Clemente Russo e Laura Maddaloni. Marito e moglie hanno raccontato ad Ilari Blasi il periodo terribile vissuto dopo la nascita delle loro gemelline Janet e Jane. I due sportivi, dopo aver ricevuto una lettera e un videomessaggio da parte delle loro bambine, ripercorrono con la conduttrice terribili momenti vissuti con le ultimo genite di casa, che sono finite in terapia intensiva dopo la nascita prematura. Le bimbe, che oggi hanno 9 anni, sono state lontano dalla famiglia per un po' di tempo, ma fortunatamente tutto si è risolto per il meglio. Il dramma che hanno vissuto li ha segnati però approfonditamente. Dopo il duro colpo ricevuto, la sportiva ha affermato che più nulla la spaventa è che l'unica cosa che desidera al mondo è la salute delle persone a cui vuole più bene. Il ricovero in terapia intensiva delle sue piccole ha fatto capire alla coppia che non c'è nulla di più importante della famiglia.